Il leash è un cavo che serve ad assicurare la tavola al nostro corpo in caso di caduta. È fissato sulla poppa della tavola, sul leash plug o in caso delle tavole gonfiabili, su dei anelli di metallo. Sulle estremità sono presenti due chiusure a velcro, una per la tavola e una più grande per l'utilizzatore. Su questa tavola, come potete vedere, sono presenti due leash plug, a cui sono stati fissati delle asole. Per assicurare il leash, lo fissiamo su queste asole. Il primo velcro dispone di una parte rinforzata, per assicurarlo a un cavo. Inoltre, dispone di altre due chiusure a velcro per garantire una presa migliore. Una volta fissate tutte le chiusure, la tavola sarà correttamente collegata al leash. Come potete vedere, su altre tavole esistono leash plug e ganci di diverso tipo.